Il Consiglio regionale ha approvato a maggioranza, con 34 voti favorevoli e due contrari del Movimento 5 Stelle, la proposta di legge che stabilisce che la quota parte delle risorse derivanti dai contributi geotermici e destinata ai comuni geotermici venga loro assegnata direttamente nel periodo di tempo necessario alla trasformazione del Consorzio Sviluppo Geotermia Società Cooperativa Responsabilità Limitata in società in house della Regione. Viene stabilito inoltre che ai fini dell'erogazione delle risorse la Regione stipuli coi singoli comuni geotermici appositi accordi per definire modalità e tempi di trasferimento degli stessi contributi, assegnati mediante deliberazione di giunta regionale. Il Consiglio ha approvato una legge con una norma transitoria che nel prossimo anno 2022 vedrà i contributi derivanti dall'attività geotermica trasferiti direttamente ai comuni, in quanto COSVIG ha in atto un percorso per trasformarsi in società in house della Regione. Come sappiamo la Regione ha investito in COSVIG, ha aumentato la propria quota all'interno della società per farne una vera e propria agenzia di sviluppo delle aree geotermiche. Abbiamo da mettere a punto questo aspetto formale, poi dall'anno successivo, dal 2023, le risorse provenienti dalla geotermia saranno nuovamente attribuite a COSVIG, che le investirà sulla base dei progetti dei comuni. Restano alcune questioni aperte, anche perché ci stiamo avvicinando alla scadenza delle concessioni, quindi è un passaggio molto delicato, sensibile e anche difficile da un punto di vista procedurale. Noi da sempre chiediamo che ci siano le condizioni per far sì che chi investe in geotermia, i soggetti industriali, possano essere messi nelle condizioni di programmare i propri investimenti. Fra l'altro non è ancora definito il decreto cosiddetto FER 2, decreto che assegna le risorse e le energie rinnovabili. Il Governo, questo Ministro, sembra essere propenso ad assegnare gli incentivi anche alla geotermia. Occorre ora accelerare i tempi, perché i tempi davvero sono stretti. Un atto sulla geotermia molto importante, seppur un atto tecnico, perché riguarda la possibilità per i comuni di attingere finalmente ai fondi che li riguardano. Sono due ambiti molto importanti nella nostra regione, perché sia quello della Val di Cecina sia quello della Miata, sono due aree interessate che garantiscono alla nostra regione il 30% dell'energia sul nostro territorio e questo potrebbe anche essere ampliato. È chiaro che qui in prospettiva dobbiamo anche fare un lavoro insieme positivo, perché la gara che dovrà essere prevista per il 2024, e se non si riesce a fare una gara, magari avere una proroga, sicuramente le concessioni devono avere una continuità perché questo settore possa andare avanti e anche, perché no, crescere e svilupparsi, visto quello di cui stiamo parlando, con le energie rinnovabili in Toscana. Sicuramente noi abbiamo una ricchezza molto importante e ne parlavo anche con il sindaco Bagaggini Pian Castagnaio piuttosto che con il sindaco Ferrini della Castelnuovo Val di Cecina, due aree molto importanti dove devo dire che tutti i sindaci sono uniti, è una battaglia comune anche per noi qui in Consiglio regionale. Si è trattato della questione del COSVIC e dei contributi che in questo passaggio mancante per adesso verrebbero versati ai comuni in attesa che COSVIC diventi un in-house della regione toscana e devo dire che questo argomento è arrivato nella seconda commissione in maniera piuttosto improvvisa in quanto l'argomento dell'energia atteneva la quarta commissione fino alla scorsa legislatura e perciò per noi è stato un argomento nuovo e non è stato neanche analizzato all'interno della commissione all'interno della quale io stessa lavoro. Questo secondo noi è un passaggio grave che manca e soprattutto anche perché bisogna capire quale sarà il lavoro del COSVIC, le attività che faranno, quanto impatterà nel bilancio perché la geotermia bisogna dire chiaramente una cosa c'è un tipo di geotermia che aiuta l'ambiente quella a bassa entalpia, quella delle piccole impianti compresi quelli domestici e sono sicuramente una grandissima risorsa e questa va sfruttata. Ci sono quelli invece che fanno geotermia un tipo di geotermia che è speculativa che il guadagno è soltanto sugli incentivi che vengono presi dal governo. Quella va evitata e soprattutto bisogna fare molta attenzione alla geotermia perché a seconda delle zone geografiche su cui essa è presenta problematiche differenti in alcuni casi è completamente innocua anche dal punto di vista ambientale in altri casi come sull'Amiata abbiamo visto aver dato anche gravi problemi e su cui uno studio, lo studio in vetta aspetta ancora di vedere alla luce i risultati per capire davvero quale ne sia l'impatto quindi prudenza perché la geotermia è una grandissima risorsa ma bisogna saperla sfruttare bene deve essere sfruttata nell'interesse della popolazione e dell'ambiente e soprattutto bisogna molto fare attenzione a dove questa viene praticata. Dopo lo stop forzato di un anno fa dovuto alla pandemia dal 20 novembre 2021 al 9 gennaio 2022 ogni fine settimana torna Arezzo, città del Natale con tantissime attrazioni come il Chiostro delle Meraviglie con l'eccellenza dell'artigianato locale installazioni luminose, la ruota panoramica il mercato delle meraviglie gastronomiche presepi originali nelle chiese e molte iniziative speciali e collaterali tutte dedicate al tema della meraviglia l'evento è stato presentato in conferenza stampa a Palazzo del Pegaso è un'iniziativa molto bella che manda un messaggio di speranza al di là delle convinzioni religiose di ciascuno di noi il Natale significa proprio questo quella speranza, quella speranza dei cittadini le cittadine ormai sentono forte di una ripartenza di poter tornare alla socialità vedere Arezzo che diventa la città dei bambini e non solo perché poi il Natale è la festa dei più piccoli è qualcosa di veramente bello e importante ringrazio il Vice Presidente Casucci per aver voluto che questa conferenza stampa potesse avvenire qui in Consiglio regionale noi abbiamo da sempre detto che dobbiamo aprire le porte ai cittadini e alle cittadine della Toscana fare di questo luogo un luogo in cui poter trasmettere anche messaggi di speranza e di opportunità ringrazio la Fondazione Arezzo in Tour ringrazio Confcommercio per il tempo che hanno investito per la professionalità perché non è un lavoro semplice in questo tempo è il Comune di Arezzo per averci creduto in un tempo difficile come quello che stiamo vivendo un messaggio a tutti i cittadini sarà una manifestazione all'insegna dell'ottimismo e della speranza nel rispetto delle regole che ci siamo dati state vedendo che i contagi purtroppo tornano ad aumentare quindi a noi il compito di svolgere tutte queste iniziative alla massima sicurezza garantendo di poter vivere i nostri spazi nella maniera migliore possibile Riparte la città del Natale dopo uno stop di un anno in cui per ovvi motivi non abbiamo potuto fare quello che avremmo voluto siamo alla sesta edizione della città del Natale riparte in pieno nel senso che con tutte le misure di sicurezza necessarie previste e doverose riparte come l'avevamo lasciata nel 2019 quindi con tutte le attrazioni che vanno dal Prata a Piazza Grande a Piazza Risorgimento e Piazza San Jacopo con tutte le iniziative con artisti di strada con installazioni fisse con il coinvolgimento di associazioni locali quali gli sbandieratori, i musici della città di Arezzo e vediamo di ritornare a fasti che erano del 2019 i presupposti sono ottimi le richieste, le prenotazioni sono già piuttosto numerose anzi molto numerose quindi siamo molto fiduciosi che fatto salvo eventuali nuovi e non augurabili sviluppi a livello pandemico questa città del Natale avrà il suo bel perché è uno dei momenti più sentiti per la ripartenza della mia Arezzo Arezzo, città del Natale è uno dei momenti centrali dell'anno per la comunità aretina e questo sia perché richiama moltissime persone a visitare questi luoghi così preziosi in questo periodo magico dell'anno ma anche dal punto di vista delle opportunità che vengono offerte ai giovani in un momento che è difficile anche per risvolti occupazionali come sappiamo in questo momento lavoreranno circa 60 ragazzi e anche questo è un dato importante posso dire che tutto è stato organizzato ovviamente rispettando le norme sulla sicurezza contro il contagio e quindi c'è stato un riadattamento ma il cuore delle varie iniziative che ci sono sempre state per la città del Natale c'è e dobbiamo ancora di più far conoscere la nostra Arezzo perché è veramente straordinaria Arezzo, città del Natale è un evento importante voluto dalla fondazione Arezzo in Tour alla quale noi siamo grati perché ci consente col mercatino di Natale ormai alla settima edizione di riproporre un'iniziativa di grandissimo richiamo Arezzo negli anni è cambiata era una città stanca che soffriva il periodo di Natale soprattutto la parte alta della città che era un vero e proprio deserto dal mese di novembre in poi con queste iniziative abbiamo spostato gli equilibri della città e adesso la città è vissuta come non è mai stata in precedenza quindi è un fatto molto importante che soprattutto in questo periodo post pandemico dà un segnale assolutamente importante abbiamo saltato l'edizione proprio per la pandemia dell'anno scorso e siamo contenti di riportare in città un evento che ha fatto di Arezzo un'attrazione ormai Arezzo è inserita a pieno titolo nel circuito dei mercatini di Natale che contano siamo arrivati nell'ultima edizione fino a 70 pullman al giorno di gente che in prevalenza dal meridione trovava un po' di Tirolo 3-400 km prima del Tirolo vero e proprio La rievocazione storica della pace stipulata a Castelfiorentino nel 1260 tra la Siena Ghibellina e la Firenze Guelfa andrà in scena domenica 21 novembre nella cittadina empolese dove 75 figuranti con i cortei di Firenze e Monteriggioni ricorderanno il patto dopo la battaglia di Montaperti Ringrazio Alessio Falorni il sindaco di Castelfiorentino per aver voluto qui oggi poter raccontare quello che è stato un momento importante lo facciamo attraverso una manifestazione una rievocazione storica importante ed è bello avere la possibilità davvero di ritornare in presenza e svolgere questa iniziativa come tante altre perché è un segno di speranza è un segno di ottimismo che mandiamo le cittadine e i cittadini toscani Questa è una tappa importante per la valorizzazione di un evento che sta nel solco della storia di Castelfiorentino ma è un evento che caratterizza la storia e la natura direi della toscanità perché avviene dopo quella è stata la battaglia più importante del Medioevo e nella dialettica tra Guelfi e Ghibellini che è la battaglia di Montaperti quindi tra Siena e i suoi alleati e Firenze e i suoi alleati e proprio dopo quella battaglia il 25 novembre 1260 a Castelfiorentino in quella che adesso è la piazza del popolo dove ha sede il municipio in una loggia di quella parte del comune fu redatta la pace diciamo tra Firenze e Siena ed fu una pace fuoriera di una serie di cambiamenti e di equilibri che poi hanno determinato la storia successiva della Toscana La giornata è organizzata in questa maniera si inizia direttamente la mattina in piazza Kennedy ci saranno giochi medievali e mercato medievale si prosegue poi nel primo pomeriggio alle 15 con i cortei storici di Monteriggioni e di Firenze e si prosegue all'interno della giornata con la rievocazione della storica firma e poi ancora cortei e flash mob medievali Sì assolutamente un momento di storia importante tra l'altro citato da Dante quindi in un anno anche particolare per ricordare Dante e soprattutto si ribadisce a Castelfiorentino ci fu la firma del Trattato di Pace quindi un modo per rievocare le tradizioni per ricordare la storia ma anche per riassaporare e rivedere una parte importante del nostro territorio Castelfiorentino da tempo sta rivitalizzando il centro le proprie tradizioni e questa è un'occasione in più una manifestazione in più che riuscirà a attirare anche persone da fuori perché sarà una grande occasione per la rievocazione storica per stare a Castelfiorentino c'è il mercatino ci sono una serie di iniziative importanti e quindi sarà una bella occasione per visitare un borgo della nostra Toscana e ricordare la profonda e lunga storia della Toscana Dopo due anni di stop a causa della pandemia arriva la terza edizione del Premio Architettura Toscana che nasce per stimolare la riflessione intorno all'architettura contemporanea protagonista delle trasformazioni del territorio il premio è promosso dal Consiglio regionale della Toscana dagli ordini degli architetti di Firenze e Pisa dalla Federazione degli architetti della Toscana dalla Fondazione Architetti Firenze e Dance Toscana le iscrizioni al bando reperibili online sul sito dedicato apriranno alle ore 12 del 3 dicembre 2021 e termineranno alle ore 24 dell'11 febbraio 2022 Innanzitutto è bello, è bello ritrovarci qui è bello poter ripartire anche con il premio Architettura l'abbiamo voluto fortemente nella scorsa legislatura l'abbiamo confermato anche in questa perché penso che disegnare il futuro passi dalla capacità di sapere ripensare anche i nostri territori perché vuol dire funzionalmente ripensare il modo di vivere delle nostre comunità è bello che questa iniziativa viene fatta insieme a tutti gli ordini degli architetti a loro va un grande grazie a partire dall'architetto Barney che guida questo lavoro credo che il futuro passi attraverso la capacità di saper ridisegnare i nostri territori è qui una sfida importante che tiene insieme l'ambiente tiene insieme lo sviluppo del nostro territorio il riutilizzo dei nostri spazi e penso che su questa sfida si giochi la Toscana del futuro io sono particolarmente contento in linea con quello che è il lavoro che ho voluto dare a questo Consiglio e ci sia una sezione dedicata ai giovani perché sostenere chi investe sul proprio futuro e scommette sulla propria professione deve essere una delle linee guida che noi portiamo avanti all'interno di questo Consiglio e mi farebbe piacere in questa iniziativa che stiamo lanciando di Toscana 2050 dove si va a ridefinire quale sarà la Toscana dei nostri figli che all'interno della Commissione del gruppo che lavorerà ci sia anche qualcuno che possa rappresentare il punto di vista degli architetti perché credo che attraverso i loro occhi si possa saper leggere meglio quello che accadrà anche domani il premio è stato rinviato di un anno rispetto alla sua biannualità adesso infatti va a essere l'ultima edizione del 2019 adesso nel 2022 proprio per dare il tempo di recuperare un po' di quel tempo perso per i vari lockdown che ci sono stati quindi diciamo così è un'edizione un po' particolare per cui vedremo intanto che cosa è successo se le cose sono andate avanti se si sono fermate se ci saranno più progetti meno progetti e di che tipo ancora più curioso sarà poi l'edizione successiva in cui si vedrà effettivamente che cosa è cambiato a seguito di questi anni adesso siamo un po' in una fase di transizione quindi avremo cose iniziate prima e finite prima cose iniziate durante questo periodo di pandemia il premio non dà nessuna linea di indirizzo dà solo delle categorie che sono opera sono la categoria nuova costruzione la categoria per restauro e recupero allestimento e opere di interni spazi pubblici, paesaggio e rigenerazione e la categoria opera prima che è la categoria per i giovani architetti sotto i 40 anni che è una categoria onnicomprensiva e che è l'unica categoria che ha un premio di 5.000 euro certamente la giuria che è stata selezionata e che esaminerà i progetti presentati dai colleghi andrà a esaminare quelli che sono gli elementi di tradizione e innovazione a seconda delle aree in cui verranno giudicati diversi lavori quello che è importante è che per noi in questo momento è far ripartire anche uno stimolo da parte appunto delle istituzioni verso quelli che sono gli operatori i nostri colleghi architetti soprattutto che si sperimentano con delle opere che vanno a riqualificare il paesaggio della regione toscana Ance rappresentano le imprese le imprese che assieme alla committenza e ai progettisti sono la parte fondamentale della catena del costruire e soprattutto della qualità del costruire che credo che mai come in questo momento ci si sia accorti dell'importanza anche della qualità del costruire che viene chiaramente dopo una qualità del progetto e a proposito di qualità proprio in questi giorni noi stiamo assistendo anche a questo dibattito sui super bonus ai vari incentivi fiscali che appunto tendono a migliorare la qualità del nostro abitare delle nostre case che è notoriamente una qualità oggettivamente con alcuni problemi e il premio può essere anche un'occasione appunto per dare un premio alla qualità non solo del progetto ma alla qualità complessiva dell'edificato grazie a tutti